vai buongiorno a tutti e bentornati a Api in giardino oggi dobbiamo controllare tutte le casse abbiamo deciso di partire dalla top bar per controllare se ci sono ancora celle reali questo è il periodo della sciamatura è il più temuto da tutti gli apicoltori perché ovviamente con la sciamatura metà famiglia se ne va quindi quello che possiamo fare è togliere le celle reali nella speranza che desistano dall'impresa ci sono ovviamente molti altri metodi per controllare la sciamatura principalmente riguardano la sciamatura artificiale cioè dividere direttamente l'apicoltore divide i nuclei delle famiglie e in questo modo indebolisce le famiglie per ognuno ci sarà una peregina e questo appunto è il metodo della sciamatura artificiale io per ora non penso di fare sciamatura artificiale quindi la cosa che possiamo fare è controllare ed eliminare le celle reali che troveremo eventualmente all'interno oggi le api sono piuttosto inlaffarate ieri è stata una brutta giornata quindi si vede che oggi hanno voglia di recuperare oggi si sta molto bene la temperatura è buona e soprattutto ci sono tantissime fioriture negli alberi del bosco apriamo controlliamo la situazione allora l'ultima volta avevamo spostato la famiglia nella parte destra della top bar quindi questa è il diaframma l'ultimo che abbiamo messo io inizierei ad aprire da qui in modo da fare un po' di spazio qui dentro dovrebbero esserci api mi sembra che partano da questa comunque li apriamo un po' alla volta stanno iniziando a costruire questa barra questo è un pavo dove stanno immagazzinando miele è bello bianco è diverso da quelli dell'altra volta perché gli altri erano molto più gialli perché c'era la fioritura del tarassaco adesso è proprio bianco qui lasciamo a costruire vediamo cosa c'è questa barra allora qui vedo il polline qui c'è anche il covato il miele però è la regina lo troviamo piano piano anche di qua c'è cuvata ancora non ho percolata non so se si riesce a vedere e scorte di miele nella parte alta qui c'è una bella parte non so se riuscite a vedere qui c'è covata già opercolata qui c'è covata fresca e qui in alto stanno stoccando miele e qui c'è Allora anche qui si riesce a vedere bene la covata apercolata, adesso lo chiedo fuori, vediamo se c'è del miele. Allora questo è un favo già quasi completo, bello grande, anche qui c'è tutta la covata già apercolata, in alto c'è il miele, la regina non la vedo nulla più, anche questa è tutta una bella covata. Ok? in Italia abbiamo detto che sono costruite 1, 2, 3, 4 4 cerchiamo già di stringerli così non mi arriva troppo dolce c'è un altro fogo molto grosso pieno di covata miele c'è le regali c'è un po' di più Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. La vedi? No, però mi fido. L'ho persa. Eccola qui. Bene, la regina è il più grosso di tutti. Allora, qui ci sono delle celle più grosse in basso. Qui ci sono quelle dei fuchi. Sopra c'è il miele. Abbiamo già provato e calcolata le miele che stanno portando nella parte di mele. Questa è il più grosso di mele. No. Non so se riuscite a vedere la differenza tra la parte centrale che è più gialla, che è quella che hanno costruito quando c'era la fioritura del tarassaco, e quella esterna della cera è molto più bianca. In alto c'è già una bella farona di miele. Vembra tutto fuori. Ecco, questo è l'ultimo pavo che stanno costruendo. Infatti è tutto di cera bianca. E anche qui stanno già stoccando miele. Direi che sta andando tutto bene. Vorrei sostituire questo. Vado a prendere quello che abbiamo tagliato. Abbiamo modificato un pochino due listelli, uno da una parte e uno dall'altra, per i due estremi. Perché dove si inserisce il tetto ci sono delle viti che purtroppo sporgono all'interno e non mi permettono di chiudere bene. Quindi abbiamo fatto uno scasso, non so come si chiama comunque, e adesso vado a sostituire quest'ultima barra, in modo che non mi dia fastidio la vite che c'è lì. Ecco. Così. Ora le riavviciniamo tutte. Così. 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 ecco io direi che così è sufficiente quel dupo è prima questa è la frambola per passaggio adesso stanno tutte tornando piene di colline cercare di estricciarla e ora mettiamo per l'occhio con l'apertura per la vite a posto li chiudiamo e li lasciamo lavorare all'interno della tubar non abbiamo trovato celle reali c'era una bella covata un po' di covata a fuco ho visto diverse larde quindi c'era sia covata o percolata che non la regina sembrava in forma e hanno costruito su dieci barre stanno ingrandendo mano mano i favi e stanno iniziando l'undicesima ci vediamo presto alla prossima ciao